no bello sto lucino solito schermato ah eccomi ne bello tutto ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi ragazzi siamo in questo nuovo video oggi ragazzi benvenuti nell'ottavo episodio di dark racing 2 eravamo rimasti qua un po' off camera, off armato si ho fatto la palestra si i soldi è chiaro che ho fatto una cosa sì dovevo ho comprato delle moonstone e un po' di lava cucchia super repellenti ho fatto un vapore nel 25 ma non è tanto buono abbiamo preso nello scorso no off camera ho preso un taglio da un da drey lei diceva eh no sai non puoi farlo perché puzzi quindi ho fatto bordello ho detto eh no ma sai io non puzzo ti ammazzo male la mamma quello ok sì 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 e quindi ho preso il taglio e ora niente ma nonna ragazzi mac oggi muore vuole morire mac non chiedetemi perché mi chiamo ash ma non l'ho voluto non sono io che mi sono voluto chiamare così ma è stato il gioco io mi volevo chiamare in un altro modo più figo però ne volevo chiamare killer 0 66 però sti cavoli non ci vuole crunch brillo ma che bello brillo brillo io sono tutti veri effetti ai sottato però fumo fumo rido fumo fumo svapo ragazzi forse vi porto la pokemon marron piiii sul canale faccio piiii perché non si può dire su youtube perché non si può dire merda chi l'ha sentito scriva io ho sentito nel giù qua giù nei commenti e se lo fa gli regalo un euro no dai scherzi in realtà io ne regalo 50 quindi tipo ora tutti ehi io ho sentito giusto 50 euro quelli sì no raga dai scherzi in realtà i 50 euro non me li donno mi caccia lì lo che volevi un regalino max potion max potion ciao non so così a caso si gira manco gli parlo io penso che mi voleva dare un euro tanto ora i big money me li sgancio perché tanto ramore ho 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 ma quante ne so quanto mi do una mille dai bomba no se posso ma ragazzi comunque fra poco mi sa che prenderemo prenderemo no perderemo prenderemo il nostro primo leggendario mi sa non sono molto sicuro ma sicuramente si quindi si quindi non sono molto sicuro però si z g z g z g se avete sentito quello no 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 non ero io ero un mio amico che è qui accanto a me che fa cose su cose sono io faccio io faccio io sbrisarino no 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 frate basta hai rotto hai rotto i fortemente ma dai ma direi coglioni tu sta prendendo il giallo ma mori ma non ci ok ragazzi l'ho schiacciato mi ho detto ma mori quello un calcio però è scappato a me zo brand un regalino grazie ragazzi sono l'unico o vede quanto è brutto questo ask non si dice ask si dice lo so era per fare una battuta crunch crunch 61 ragazzi quasi vola si vola però se continuo così vogliamo veramente questa così dalla cina mi vede a ragazzo con questo è l'ottavo episodio forse bu vabbè si è l'ottavo episodio ragazzi se volete tipo un video si un altro video a parte molto più bello di sta serie non per dire che sta serie faccia schifo ma mi impuzzettica un po' che ne dite di fare tipo qualche faccio qualche faccio in cui tipo parliamo un po' live diretta ah ragazzi comunque se lo fate vi regalo una 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 banana del 1300 proprio un pezzo rarissimo non si trova mai ve lo dico io e basta e vabbè morto chisame e vai vespi qui nei... e ciao buongiorno aspetta non ha nessun effetto però dice che può fare tutto quello che vuole sui pokemon allora put su e slash wait waylord sul set maria io esco wait man yo bro boy raga però si amassi raga però si amassi raga però si amassi ah avete capito sta un famoso stanfa mio strago no no perché non c'è un mosso raga 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 max potion siiii oh che livello è quasi nooo sempre 25 le morta cacca oh sempre 25 mi capita ooooh ma stiamo scherziamo c'è il men vai to war it more it more ti 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 li ti 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 di ti 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 raga è troppo figlio it more raga immaginate vinco la lega con it more se sarebbe uno schifo sarebbe brutto sarebbe uno schifo ragazzi sarebbe ce n'avrebbe senso manco senso di vivere avrebbe c'è mamma mia che schifo tutto no più verso controlando quanto hanno aperto sordi ma grazie ragazzi la lega nel terzo salvataggio non l'ho fatta quindi ragazzi sono bravissimo però nel primo e nel secondo si l'ho fatta però a me piace ricominciare rifare i bordellissimi questo dove non c'era prima ragazzi questo non c'era prima non c'è mai non c'è mai stato qua questo mi faccio super efficace help ok colletta preziosi collection che schifo schifetto babilonese gastro don raga ma chi è che usa ancora gastro don se ho che si usa nei commenti nei competitivi ma non è mica così tanto ora ragazzi si ricordano di carne ma è un genio nooo drogo pulsar ciao lando che è stato stil sta tanto chiama frega tanto così si si guadì o nooo un ps no raga io chi è cleon non lo voglio uscire perchè mi piace anche lui no dopo leggi venivo conto dai no perchè c'era coi e poi sapete mi mi scasso i cosiddetti in questo ora dove spinta nella mia vecchia cosa no dai scherzo era tutto messo in scena in realtà si c'è un rompipi ma dillo che è un rompipi scatole no non posso per copyright ora che sto qui ora che sto mio amico proprio ci scassa le scatole c'è scasse maroni non so che tanto non ci guadagno per la demonetizzazione ma scusa youtube se ti sto imitando ma era per fare l'esempio si sai terra e medici anni e poi ora arrivano e ma non si dice il site si dice che io lo pronuncio come mi pare e piace si bomba 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 lo fire blast sludge bomb oh raga ma ma che sta diventando una bomba cosa ti ridi che fai ahahahahah tanto avrei fatto self destruct te pareva sempre in due giochi questa volta è in uno trago pulso a scaramori ti faccia io beh addio no non ti rischia ecco si va meglio decisamente no non è a quel posto vero anche si è quello cosa è successo vabbè allora ragazzi che dire tra qualche secondo finirà la registrazione sicura comunque noi ci sentiamo a un prossimo video spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi condividete e lasciate un commentato questo canale attivate la campanellina e noi ci vediamo a un prossimo video bye 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 dal me al personaggino è tutto ciao ci vediamo ragazzi